Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme le chiacchiere di carnevale, ma le faremo al cioccolato e cotte al forno. Per prima cosa in una ciotola andiamo a mettere un uovo, 20 g di zucchero, 15 g di olio di semi, 2 cucchiai di liquore e 15 g di cacao. Iniziamo a mescolare il tutto con la mano. Adesso versiamo 120 g di farina 00, poco per volte, iniziamo ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Trasferiamoci su un piano da lavoro, infariniamolo per bene e stendiamo l'impasto con il mattarello, deve essere sottile sottile il più possibile. Aiutandoci con una rotellina andiamo a tagliare le nostre chiacchiere e sistemiamo anche i bordini se è necessario. Mettiamo le chiacchiere su una placca da forno con carta da forno e facciamo cuocere a 200 gradi per 5 minuti. Ed eccole pronte! Una versione diversa ma veramente molto molto buona. Con un po' di zucchero a velo saranno ancora più buone. Ciao e alla prossima ricetta!